Buongiorno a tutti e ben ritrovato nel mio canale FDM. Oggi ci sono qui in questa location un po' particolare per fare un video altrettanto particolare, ovvero il drop test di questo Lumia 930. Questo telefono qui funziona, l'unica cosa che ha il display che non funziona nel touchscreen, quindi ripararlo alla fine costa più che comprare un nuovo. Quindi oggi faremo appunto questo test. Per questo video utilizzeremo questa scala qui, che adesso vi mostrerà. Sarà più o meno un'altezza di 3 metri o qualcosa in più, aggiungendo anche la mia altezza. E avrò 3 telecamere, quindi quella che state vedendo, una piccola action cam che riprenderà dall'alto, più il mio OnePlus 5 che riprenderà in slow motion da per terra. Vi lascio due di cominciare, ci vediamo tra pochissimo. Perfetto, siamo pronti, quindi 3, 2, 1, 2, 1, Ok, dopo aver mollato giù il telefono, questo è il risultato. Cioè, è praticamente distrutto. Vediamo se si accende ancora. No, non si accende più, vedete. Vabbè, tanto comunque era da buttare via. Ho controllato anche la part in slow motion, purtroppo ha ripreso un po' storto, però la caduta si vede, anche se non si vede chissà cosa. Comunque è stato abbastanza divertente a farlo, però un po' mi sento un peso perché non lo rifarei con altri telefoni. E resto comunque tutto integro, come vedete si è praticamente distrutto tutto il display. Eccolo qua. E niente, io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video. Ciao, ciao da Fabio.